Ad essere rappresentato in Grecia come giovani di forme robuste, con spalle polverose, con l'arco tetto sempre severo, o addirittura accigliato nel volto e con la testa coperta dall'emmo. Ma come abbiamo detto già, sopra il culto di Ares non era né molto diffuso né molto popolare in Grecia, che pochissime furono le statue che gli vennero dedicate. Più generalmente venerato era invece a Roma e di Marte, Roma ne avevano identificato con Ares. Ne basta a spiegare questa maggiore diffusione e profondità del culto di Marte, il carattere del popolo romano. Ares è il più bellicoso del popolo greco. C'è favore di Marte questa fra circostanza che il romano dio della guerra non era né così fortale, né così avido di strage, estrimondosi sangue come il greco Ares, Marte anzi era dio benevolo che difendeva gli uomini da ogni danno e allontanava dai campi e dai greggi rubi.